Lui voleva un altro... per lasciare il cognome. Ma che? Cosa significa? Per me non ha un significato, un cognome, basta. Non hai i possedimenti, non hai la contea, il ducato, non c'è niente. C'era soltanto un cognome, basta. Io non l'ho fatto. Caso ha voluto che l'ultimo figlio di mio suocero, sempre maschio, ha avuto una figlia femmina. Quindi la dinastia si è interrotta lì. Grazie a tutti.